Non si è accorto di niente quando l'altro ha afferrato le forbici e ha colpito. Può darsi che l'assassino abbia lasciato qualche impronta? Perché non mettiamo la luce grande? E perché io domani mattina me ne vado? Basta che firmi che mi prendo io la responsabilità. A me quello che è successo mi ha fatto un'impressione che... Forse l'assassino sta ancora qui. O se non c'è più, ci tornerà. Come che dicono, l'assassino torna sempre sul luogo del delitto. Io ho paura. Lo sapete che non c'è nessuno di guardia alla porta? Suona per l'infermiera. E perché non suoni tu? Il dottor Hahn era un uomo di primo ordine. Personalmente c'era molta simpatia tra noi. Anche professionalmente c'era molta comprensione, specialmente in questi ultimi anni. Loro ho comandato io stesso per una libera docenza. Io stesso. Potrete verificarlo. Non era viceprimario, vero? No. Lo sarebbe diventato molto probabilmente dopo la libera docenza. Così lei non sarebbe più stato l'unico viceprimario, vero? Eh, già. Saremmo stati in tre al ritorno del collega Martin attualmente in Italia. Devo far controllare? No. Ma avevate avuto delle divergenze scientifiche, vero? Sì, esatto. Ma questo era successo molti anni fa, in tempi difficili, per lui e per tutti quanti. La politica interferiva nelle questioni scientifiche in generale ed in quelle genetiche in particolare. Ma tengo a precisare che alle misure amministrative prese a suo carico io fui completamente estraneo. Ecco tutto. La vittima doveva pronunciare il discorso inaugurale al congresso di genetica. Esatto. Il suo lavoro era molto apprezzato all'estero. Ne eravamo soddisfatti e lusingati. E il suo lavoro è altrettanto conosciuto? È completamente diverso, vede. Io sono un cardiologo. Ma i miei lavori sono abbastanza noti. Modestamente. Come potevate avere divergenze scientifiche se lavoravate in due campi diversi? Vede, la genetica interessa tutti i rami della medicina e la cardiologia non può prescindere dalle leggi dell'ereditarietà. Capisce? La vita privata del dottor Hahn era un po' complessa. Veramente io non mi interessa a queste cose, ma non credo proprio che lo fosse. Il dottor Hahn aveva una sola relazione seria, Maria. La dottoressa Novak, cioè. Un sentimento molto serio. E la faccenda con quella ragazza? Ah, Georgina Cotor.